Via Carrai, dalla Fondazione! Vergogna! Chiediamo le dimissioni del console Carrai come presidente della Fondazione Meyer. Pensiamo che sia una carica inopportuna per un console che rappresenta uno stato terrorista che in questo momento si sta rendendo colpevole di un genocidio. C'è un processo in corso alla Corte Internazionale. Non mi sta bene, mi dispiace. Bisogna boicottare chiunque sia partecipi, chiunque è coinvolto in questo conflitto, che non è un conflitto, è un'aggressione militare ai danni di un popolo, che sono morti 12.000 civili, 12.000 bambini, sono innocenti i bambini, sono morti 12.000. Il numero sarà crescendo giorno per giorno, perché ce ne sono tantissimi feriti, molti dispersi sotto le macerie, 300 operatori sanitari massacrati mentre lavoravano, i nostri colleghi, mentre erano al lavoro, massacrati dalle bombe israeliane, pagate con i soldi di qualsiasi ditta farmaceutica che partecipi alla raccolta fondi per comprare bombe. È una cosa vergognosa.